Eccoci e bentornati sul mio canale, di nuovo con Call of Duty Advanced Warfare Un video molto breve ma secondo me molto utile per tutti coloro che amano e giocano tantissimo agli Exo Zombies Una cosa veramente molto utile che mi avete consigliato e che non avevo mai utilizzato se non da qualche giorno Ed è lo scarico di rifiuti, ebbene si nella mappa Outbreak, nella stanza degli Exo, delle funzioni Exo C'è praticamente lo scarico di rifiuti, che cos'è lo scarico di rifiuti? È praticamente una botola che al prezzo veramente molto basso di 100 crediti ci permetterà di tornare nuovamente nel punto in cui siamo nati Quindi dove c'è l'autobus, è molto comoda perché tante volte capita, come ben sapete, di morire e quando si rinasce non si ha più le funzioni Exo Quando praticamente si torna a prendere le funzioni Exo là, è veramente molto stretto riuscire a difendersi dalla miriade di zombie Che ci attaccano da una parte e dall'altra, soprattutto perché arrivano sia dalle porte sotto che dalle porte sull'altra Quindi lo scarico di rifiuti ci permette di uscire dalla stanza Exo senza rifare tutto il giro e tutti i corridoi Per poter tornare ovviamente nelle stanze più ampie di questa mappa, appunto Outtrack E quindi con 100 crediti si riesce a tornare facilmente nel punto di respawn iniziale Quindi dove è praticamente l'autobus Quindi questo era un video per chi come me all'epoca, o meglio anche adesso non lo sapeva e non lo sa ancora tuttora Che è veramente molto comoda per riuscire a scappare in maniera molto più veloce dalla stanza Exo Senza ovviamente rifare tutto il giro e rischiare di morire in un attimo Spero che il video vi sarà utile, ringrazio tutti coloro che me l'hanno consigliato E se il video vi è piaciuto iscrivetevi sul mio canale, mettete un bel mi piace sulla mia pagina di Facebook E ci vediamo con tanti nuovi video, sempre qui, sempre nel mio canale